È arrivata la settimana della Federal Reserve, Jerome Powell cosa farà? Alzerà il costo del denaro di 50 punti base o di più? Quali saranno le conseguenze per il mercato, per il mondo azionario americano e per quello valutario? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. La prima carta è verde, quindi strategia rialzista e mi collego anche a quella strategia che ha posto anche Nicola, che è proprio sull'oro. Abbiamo visto un oro molto debole, probabilmente dovuto anche al fatto che la forza del dollaro ha potuto portare il metallo giallo fino a toccare i minimi inaspettati, probabilmente perché già diversi mesi fa abbiamo visto un oro molto forte, soprattutto rispettando l'area di prezzo dei 1910-1900, che comunque ha rappresentato un livello psicologico molto importante. Al momento stiamo vedendo un oro che secondo me potrebbe ancora continuare a scendere, ma per poco in vista di questa settimana, del meeting che durerà due giorni per quello del FOM, che potremmo assistere a un'ulteriore discesa dell'oro almeno fino a 1833, che andrà a coincidere con il nostro livello di ingresso. Perché 1833? Perché coincide con la media a 200, che è sempre stata un livello, un riferimento molto importante per diverse asset class, quindi lo prendiamo come riferimento per il nostro livello di ingresso appunto. Secondo me terminerà il canale ribassista, che dura almeno da diverse settimane, diversi mesi, e da qui potremmo ipotizzare appunto un long anche per una strategia non solo di breve, ma anche di medio e lungo termine, che appunto potremmo utilizzare tranquillamente con i certificati. Ti do subito i livelli operativi Riccardo, abbiamo detto ingresso quindi 1833, stop loss 1800 e target 1880, che è uguale diciamo a quello che ha citato anche Nicola. Una domanda, un convitato di pietra di cui non abbiamo parlato fino adesso è la Russia. Quanto può essere il peso nella discesa dei prezzi dell'oro della Russia, delle vendite magari sul mercato da parte della banca centrale di Mosca? Sicuramente è stata comunque una mostra che ha influito negativamente sul prezzo dell'oro, considerato che comunque il governo russo, la banca centrale russa aveva in possesso molte scorte, molte quantità di oro, quindi sicuramente la vendita del metallo giallo da parte della Russia ha influito sulla discesa. Ovviamente questo si aggiunge a quello che abbiamo detto anche prima, cioè la forza del dollaro, la forza del dollaro che sicuramente non ha giocato un ruolo importante per vedere ulteriori rialzi dalla soglia del 1900, quindi è sicuramente un aspetto da considerare quello della Russia che appunto ha dovuto inesorabilmente vendere quota parte delle proprie riserve. Allora abbiamo annotato i livelli di questa prima strategia, subito giriamo pagina e in volata andiamo a sentire invece quella che è la seconda operazione che ci proponi. Allora la seconda passiamo direttamente sull'azionario, quindi giriamo una carta rossa questa volta, strategia rialzista su meta platform. Abbiamo visto come recentemente, come per altre big tech insomma americane, abbiamo visto un rialzo molto importante, ovviamente da livelli molto 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 interessanti, insomma i livelli di 170, 171 dollari per me erano dei livelli molto attraenti per gli investitori a mio avviso di breve termine. Dico di breve termine perché per me siamo ancora all'interno di un canale ribassista che probabilmente accompagnerà ancora una possibile ulteriore discesa del titolo. Questo perché? Perché basta guardare il grafico di meta settimanale, vediamo proprio come dal rimbalzo, e parlo innanzitutto dell'inizio di questo mese, c'è stato una candela ribassista molto molto importante dalla media 200. Questo ha lasciato comunque sul campo un ascedo che poi ovviamente nei giorni successivi ha dimostrato appunto la forza di questo segnale ribassista. Secondo me proprio da qui si potrebbe ipotizzare un ulteriore scenario ribassista, quindi in questo caso il nostro livello di ingresso andrà a coincidere proprio con i massimi che ha raggiunto recentemente all'interno di questo canale, quindi parlo del livello di 230 dollari. Quindi potremmo ripartire da qui per un ripasso con uno stop loss a 260 e un target a 170 dollari, che appunto va a coincidere con i minimi del titolo. Ascoltami, una tendenza che ho visto per quanto concerne le trimestrali americane su fronte a tecnologia, certo una solidità dei risultati, ma degli investimenti che da un punto di vista reddituale si stanno facendo sentire, nel senso stanno un po' drenando delle risorse, si punta ovviamente al futuro, però ecco il mercato forse non ha apprezzato molto questo. Guarda, ti dico, dal punto di vista fondamentale Meta ha ancora molto da riprendere, consideriamo tutti gli utenti che ha perso in Europa, ha considerato anche il progetto della Metaverso che ancora non vede una concretezza molto forte tra gli stessi utenti, quindi ancora dobbiamo vedere dei risultati che in realtà Mark Zuckerberg aveva presentato come dei risultati, sicuramente nel lungo termine, però che avremmo visto comunque già dei benefici nel breve e nel medio termine. Quindi sicuramente dovrà recuperare le perdite che ha sostenuto durante questi mesi, quindi credo che proprio per questo motivo non si possa al momento attendere un rialzo immediato del titolo, credo che ancora debba scontare qualche ribasso, per cui al momento ci posizioniamo appunto ribassisti, però credo che già dei livelli di 170, ma anche in realtà dai 139 ai 140 dollari, si possa pensare ad un riacquisto del titolo da tenere sicuramente per il lungo termine, perché i progetti sono comunque ambiziose, sono dei progetti che comunque possono cambiare sicuramente lo stile di vita delle persone. Allora abbiamo segnato anche questa strategia e vediamo subito la terza operazione che ci proponi questa settimana qui a House of Trading. Ok, torniamo sul verde, quindi strategia rialzista su British Petroleum. Perché rialzista? Perché il titolo ha reagito molto bene dal gap segnato tra i 400 e i 375 dollari, ha reagito molto bene. Allora il gap è ovviamente dovuto al fatto che British Petroleum è uscito dal mercato russo, quindi questo ha portato il titolo a tracciare comunque dei ribassi segnanti. Il titolo sta reagendo molto bene, l'azienda ha... Diciamo che l'uscita dal mercato russo, Paolo, è un po' opportunistica, nel senso... Ufficialmente è uscita, però poi sappiamo che il barile che viene considerato non russo è riempito per il 49% da petrolio russo, per il 51% da petrolio proveniente da altre nazioni e come tale non viene considerato russo. Ecco, è gioco di prestigio e di equilibri. Come sempre, certo. No, ma infatti anche questo, diciamo, secondo me è stato apprezzato e poi scontato da molti investitori. C'è anche da dire che British Petroleum banta nel suo bilancio di una grossa liquidità, anche conservata, per essere utilizzata nel momento giusto. Infatti, grazie a un recente buyback delle azioni, appunto, British Petroleum è riuscito comunque a coprire quel gap ribassista. Quindi siamo long da 395, Riccardo, uno stop loss. Lo andiamo a posizionare direttamente a 378 e un target a 430. Quindi cerchiamo comunque di superare i massimi, visto che secondo me il titolo è ancora visibilmente all'interno di un trend fortemente rialzista. Mentre parliamo, vediamo come il prezzo ha in realtà rotto una resistenza, che era comunque importante per chi analizza solitamente i grafici. Quindi già questo potrebbe rappresentare un segnale molto importante, molto forte per il titolo, per raggiungere il nostro target. E allora Paolo, il tempo davvero vola. Ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo la possibilità di seguire le tue strategie nel corso di Turbo Daily, come dice il nome, ogni giorno, da lunedì al venerdì, le strategie operative che tu ed Enrico Lanati mettete realmente sul mercato. cliccate il mouse, investite e impiegate i vostri soldi per strategie long e short sui diversi sottostanti dei certificati a leva firmati B&P Paribas. Sì, assolutamente, facciamo anche il venerdì un recap delle operazioni che appunto di cui parliamo tutta la settimana, ma non solo, anche di precedenti strategie, quindi è possibile comunque avere un sunto e un recap di tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana. E allora a questo punto andiamo a vedere la penultima operazione che ci proponi. Perfetto, penultima, siamo ancora su una carta verde, quindi strategia realzista su Pfizer. Gli aspetti fondamentali sono più legati ovviamente ai dati di bilancio, cioè sicuramente gli analisti si aspettano una maggiore vendita di quello che è il nuovo farmaco sul Covid. Noi vediamo comunque che la pandemia continua a non arrestarsi, vediamo quello che sta succedendo anche a Pechino, per cui le aspettative sono per un aumento delle vendite, un aumento sicuramente della domanda del nuovo prodotto, quindi da questo punto di vista io punto comunque al rialzo, anche per una strategia in questo caso di lungo termine. Ti dico subito il livello di ingresso, 46,50 centesimi, stop loss 43,50, e infine un target a 51. Sì, peraltro anche qui siamo nel pieno dei trimestrali americane con Pfizer che quest'oggi diffonde i dati di bilancio e soprattutto una visione generale da parte degli analisti propositiva, a memoria davvero la maggioranza, un 60% del consensus del mercato e quindi degli analisti delle più importanti banche d'affari internazionali a una raccomandazione buy o accumulate sul titolo. Non ci resta a questo punto di andare a scoprire l'ultima strategia che ci proponi. Allora, visto che manca poco tempo, andiamo subito sull'ultima carta, verde, strategia rialzista, questa volta sull'S&P 500, quindi abbiamo visto un'S&P 500 molto debole che già da un po' ha scontato quello che è stato il timore per quello che sarà appunto la riunione del FOMC in queste due giornate. Però, ovviamente, a prima impressione, si potrebbe ipotizzare anche un trade ribassista, visto che comunque la discesa delle ultime settimane è stata veramente importante, però comunque ha raggiunto dei livelli minimi molto attrattivi per degli ingressi a rialzo. Ti dico la verità, il mio livello di convinzione è due stelle proprio per questo motivo, perché comunque veniamo da una discesa importante, però proviamo comunque un rialzo con dei livelli molto molto stretti. Il livello di ingresso è 4100, stop loss 4000 e 4250 invece rappresenta il nostro target. A mio avviso, se l'S&P dovesse superare la soglia dei 4000 punti, che è per eccellenza un livello psicologico per l'indice, insomma, potremmo scendere anche di oltre 300 punti, a mio avviso. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie.